Il prequel di uno dei film più amati del cinema italiano, Amici miei di Monicelli, ha già suscitato curiosità e polemiche ad una settimana di distanza dall'uscita in sala. Questa mattina il regista Neri Parenti, il produttore Aurelio De Laurentiis e parte del cast hanno presentato il film a Napoli. Noi siamo dei ragazzi coraggiosi, il produttore, il presidente del Napoli è coraggioso già per quello che affronta comunque a fare presidente di calcio in senso assoluto, perché lì c'è veramente coraggio e quindi è uno che ha la grinta e la voglia di fare una cosa del genere. Siamo temerari, audaci e temerari. Ma io non credo che sia un remake del vecchio film, Amici miei, questo è un prequel, quindi viene prima, non c'entra proprio niente. E poi ammettono le 400, quindi voglio dire lontano, distante. Certo, uno pensa a Tognazzi, noi ce l'abbiamo messa tutta, è il nostro piccolo. L'importante adesso, prima di giudicarlo, bisogna andarla a vedere e poi se piacerà, batteranno le mani, se non piacerà, fischieranno. E chi se ne frega, ma poi stiamo a parlare del cinema, mica della ricerca sui tumori, che cacchio. L'operazione compiuta da Neri Parenti è stata di trasportare le zingarate dei cinque amici nella Firenze del 400. Tuttavia il regista ha preso le sue precauzioni, sessi autori e soggetti di Monicelli. Il film ovviamente fa ridere e perde completamente quel lato malinconico che ha fatto di Amici miei e di Monicelli un capolavoro italiano. No, no, non fa ridere niente. La sorpresa. È un film molto serio, per questo l'ho chiamato Michele Placido. Io porto in scena il comissario Fattani, però in versione toscana. Sono stati bravissimi, ha parlato Toscano, può ricamare il ragazzo. E soprattutto c'è lo spirito del vecchio amici miei nella sceneggiatura, già lo si vedeva chiaramente, scritta dagli stessi autori storici, De Bernardi, Benvenuti e Tullio Pinelli. Quindi per noi è un omaggio, un gesto d'amore nei confronti di quella storia di Monicelli. L'Orezzo Magnifico richiama Cattani, oh Cattani, oh Cattani, c'è una scena bellissima, perché non abbiamo imitato assolutamente... Ma Massimo Chini di Poggio a Caiano. Ma ci sarai te, la mamma di Poggio a Caiano. Va bene?